Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo è io Robby. L'altro giorno ho fatto un po' di shopping dal sito evai.com e volevo raccontartelo perché secondo me può tornare utile anche a te. Inoltre ho un codice a sconto, quindi ti faccio vedere cosa ho comprato e se ti va basta dare un'occhiata. Tutti i prodotti che ho acquistato sono dei prodotti Abrec, dall'azienda abrec.it, se ti va di dare un'occhiata puoi passare dal loro sito. Questo che ho preso è un disco al tungsteno da 40 denti, 255 mm, da mettere ovviamente sotto il mio decispugliatore. L'acquisto di cui vado particolarmente fiero è questa pompa a batteria da 16 litri della Abrec. Ho deciso di acquistarla, di testarla, ovviamente la utilizzerò in tantissimi lavori, progetti, pompature e quant'altro. E ho comprato anche il nuovo arrivato, questo coltellino da innesto, sempre Abrec. Ma guardiamo più nel dettaglio la pompa, quindi la vado ad aprire. L'ho acquistato ovviamente per utilizzarla in tantissimi video, progetti, appunto trattamenti, sia in giardino che in campagna, per il disserbo, per ovviamente per tantissime cose. È una pompa a batteria da 16 litri, ha come output 12V da 1.2A. La durata della batteria da 8A è circa 4-5 ore, appunto a seconda di quanto tempo viene utilizzata, se è un utilizzo interrotto o meno. E il tempo di ricarica è di circa 10 ore. Quindi penso appunto di trovarmi molto bene, ha questa spalliera, questa comodità in più, a differenza delle altre pompe. La lancia, come anche la manopola, sono in ferro, sono in ottone, quindi sicuramente più resistenti. E ha le due bredelline, appunto per far sì che appunto la pompa sia comoda e ben salda alla spalla. Le bredelline sono anche imbottite, quindi sarà sicuramente comoda. Bene, quindi questo è quello che ho comprato. Io ti lascio insomma un'impressione al mio codice sconto. Ovviamente ti lascio anche tutti i dettagli qui sotto in descrizione. Come al solito, fammi sapere cosa ne pensi di quello che ho comprato. Io ti saluto, ti ringrazio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.